E tu parli solamente per dirmi che sarebbe stato meglio conoscerci tra almeno quattro anni, quando l'università è finita e la tesi è scritta, e tutto è in discesa e non in salita, come la ricerca di una paga fissa. E ti parlo solamente per dirti che sarebbe stato meglio non conoscersi in una qualsiasi circostanza, non c'è costanza dell'amore, i costi d'una stanza ore sono alti, nonostante i contanti contati, come rimborsi spesa dei nostri contratti. Ma poi, ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. E tu parti solamente per fuggire, con un coraggio da leone che nemmeno l'internazionale Bresli avrebbe potuto intuire che i mostri del da due lire inizieranno a sparire, non ci resterà che finire come il credito, quando ti voglio sentire al volo. Ma poi, ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai, dici che il tempo passa per noi, che te ne andrai, che il tempo per noi non basta mai. Ti chiamo e non rispondi mai. Ti chiamo e non rispondi mai. Grazie a tutti